Se stai avendo difficoltà all'aggiornamento KB5043131 di Windows 10, in questo caso possiamo risolvere il problema attraverso i servizi oppure arrestando Windows Update, riattivando e ripristinando anche. In questo caso andiamo un attimo su servizi, assicuriamoci che il nostro Windows Update sia attivo, quindi andiamo su Windows Update ed eccolo qua. Il stato del servizio è in esecuzione, quindi Windows Update funziona correttamente e può scaricare e installare aggiornamenti. Se qua è arrestato, tu clicca su avvia, fai applica e basta. Tipo di avvio, mettilo automatico e fai applica. Una volta fatto, assicuriamoci anche di provare anche a ripristinare questo Windows Update andando su cmd. Prompt dei comandi esegui come amministratore. Facciamo prima una scansione per vedere se ci sono problemi e così facendo ripristinerà quei file. Andiamo a scrivere sfc spazio slash scanno e facciamo invio e attendiamo che finisca così questa analisi del sistema. Poi, una volta completata così questa analisi, puoi chiudere semplicemente cmd, lo chiudi e andiamo direttamente sul nostro PowerShell. Windows PowerShell d'aprile come amministratore. Una volta fatto, in descrizione ti ho lasciato così un comando da inserire direttamente su questo PowerShell. Copio così questo comando e lo inseriamo qua sopra. E facciamo invio. Ora, il servizio transferimental agent in background sta per essere arrestato. Ora, per continuare, continuiamo questa operazione e facciamo S e facciamo invio. Arresterà alcuni servizi e poi li riattiverà. E ripristinando anche il Windows Update. Continuare questa operazione, facciamo sì e facciamo invio. Ed eccolo qua. Servizio Windows Update in fase di avvio. Servizio richiesto già avviato. Ovviamente, una volta fatto, puoi schiacciare, quindi scrivere qua sopra, exit e fai invio. Una volta fatto, non scaricare e installare nessun aggiornamento, devi riavviare il tuo sistema. E poi, vai a vedere se puoi scaricare e installare questo aggiornamento. Se non dovesse funzionare, possiamo andare direttamente su altri strumenti di risoluzione dei problemi. Windows Update e facciamo una scansione per vedere se ci sono problemi qua sopra. Verifica la presenza di problemi in Windows Update rilevato. Facciamo il problema è stato risolto e facciamo sì. Vediamo anche lo strumento di risoluzione dei problemi e basta. E chiudiamo qua. Se hai altri problemi riguardo a Windows Update, commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.